Dunque, negli ultimi anni, ma direi insomma nell'ultimo decennio in realtà, i rapporti tra il versante balcanico, l'Albania e tutto il versante balcanico, e l'Italia, in particolare il versante adriatico, Ivi compreso l'Abruzzo di cui noi rappresentiamo, hanno setto dei legami ancora più forti sotto tutti i punti di vista, culturale, sociale, economico e anche istituzionale, direi soprattutto negli ultimi tempi. In che modo, a suo parere, la comunicazione, soprattutto di stampo istituzionale, quindi l'intensificarsi dei legami anche dal punto di vista della comunicazione, ha rafforzato questo legame e cosa altro può fare per fare un ulteriore passo? Come lei ha evidenziato, sono più di vent'anni che fra l'Italia e l'Albania il termine cooperazione è un termine diminutivo, perché si tratta di veri partnership, partnership che hanno giovuto all'Albania, però partnership che hanno creato anche una cultura in comune e che hanno associato anche dei processi interni per l'Italia, facendo conto del, considerevole un numero di immigrati albanesi che lavorano e vivono in Italia. Possiamo considerarlo un caso felice dove la comunicazione ha funzionato. Ha funzionato e il risultato di progetti comuni e di effetti che essi hanno dimostrato negli anni lo dimostra e lo conferma. Forse anche questo dovrebbe presentare o dare spunto a una ricerca in sé, perché i casi della comunicazione che funziona nell'epoca in cui viviamo sono assai limitati. Quindi capire cosa fa di una comunicazione fra istituzioni, fra paesi e fra nazioni, fra persone che vivono in queste due nazioni che hanno una cultura diversa, che hanno una storia diversa, che creano e trovano delle cose in comune per cui collaborare, andare avanti e mettere su una comunicazione funzionante, questo potrebbe dare spunto e potrebbe anche dare delle risposte a molte situazioni di crisi della comunicazione. Quanto riguarda la comunicazione, probabilmente l'Italia può essere considerato un laboratorio di complessità, direi forse anche a livello europeo, e in qualche modo alcuni dei progetti pilota che attraversano l'Italia, ma direi l'Europa nel senso delle indicazioni strategiche, penso ai problemi che riguardano il divide, il digital divide, comunque la formazione, l'aspetto quindi delle politiche giovanili, l'aspetto che riguarda come dire le sensibilità ambientali e oggi le energie verdi, tutto quello per il quale l'Europa sperimenta dei sistemi sono evidentemente delle occasioni di confronto e anche di collaborazione, possono essere anche delle best practice che possono diventare materia di scambio con paesi trasfrontalieri come ad esempio l'Albania. In particolare oggi l'Albania direi che è uno dei paesi più recettivi sotto questo punto di vista, forse uno dei primi sui quali l'Europa, soprattutto l'Europa orientale e l'Italia in particolare si è rivolta, e quindi sotto questo aspetto direi che ci sono molti progetti in comune, anche progetti e fondi e finanziamenti che intervengono proprio sulla necessità di creare progetti di cooperazione con partecipazione. Stavo prima parlando con la professoressa del progetto IPA Adriatico, che è un progetto che finanzia le idee che mettono insieme paesi trasfrontalieri come paesi e regioni, quindi come lo stesso Abruzzo potrebbe essere ottimo e storico anche il rapporto con la Puglia rispetto all'Albania, ma in generale costituiscono materia di sviluppo. Sulla comunicazione, appunto, quelle che sono best practices italiane e europee diventano, come dire, materia di studio e anche di applicazione nei paesi di nuovo ingresso, di probabile ingresso. Possiamo dire che l'Università ha tutti gli effetti un'istituzione tra le istituzioni, forse una delle più importanti. Su questo lei ha sicuramente un'esperienza assolutamente diretta e in uno dei paesi di più grande fermento dal punto di vista del rinnovamento culturale. Quale può essere il ruolo specifico dell'istituzione-università all'interno della creazione di questo tipo di legami di cooperazione e anche di stimolo per non solo culturale, ma proprio imprenditoriale e di più ampie vedute? In che modo può aiutare la rivoluzione in corso? Voglio ampliare un po' il punto di vista, non soltanto per queste collaborazioni e questi partnership, oppure limitare lo spazio di collaborazione. Le università e la comunicazione, comunicazione in generale fra le parti sociali, comunicazione fra le istituzioni, comunicazione fra gli individui, è un binomio che man mano va rafforzato e si dimostrerà, io sono certa di questo, nel tempo un binomio di successo. Noi siamo stati oggi partecipi di un summit molto importante, un summit che ha riunito dei attori di spico, non solo ricercatori, non solo practitioner, cioè persone che lavorano direttamente sul campo delle comunicazioni, persone che prendono delle responsabilità per decisioni molto importanti, ma anche l'università. Cioè, quindi è stato un insieme di tutti gli interessati, ma anche di tutti quelli che fanno la comunicazione, che hanno anche un potere per influenzare le comunicazioni, quindi le comunicazioni in generale. È stato, cioè il summit di oggi, per arrivare alla sua domanda, che ruolo hanno le università, il summit ha dimostrato due elementi molto importanti. Cioè, c'è in corso una rivoluzione e non si tratta solo di rivoluzione delle comunicazioni, perché la tecnologia in sé ha avanzato molto, le comunicazioni in termini di metodi di comunicare, di modelli di comunicazione, anche quelli sono abbastanza evoluiti, come è stata, cioè, come l'evoluzione del nostro millennio lo dimostra. Ha dimostrato una rivoluzione perché l'individuo è cambiato. Quindi bisogna pensare, bisogna mettere su delle comunicazioni che riflettino questo cambiamento individuale. E per questo la chiamiamo rivoluzione. Un altro fatto è che le ricerche, le ricerche non sono quelle che dovrebbero essere. Le ricerche sul campo, anche perché si tratta di argomenti multidisciplinari, non di argomenti omogeni, ma eterogeni. Quindi c'è sempre anche un discorso interessante del chi deve fare le cose, che è venuto fuori oggi. E quando si tratta di argomenti come la comunicazione, dove deve fare il suo input, il suo contributo, la sociologia, la psicologia, le scienze gestionali ed economiche, quindi è un argomento molto composto. Ma qui tutte e due le cose dimostrano e testimoniano un ruolo unico. Che l'università, parlando di laboratorio, le università sono laboratori. Laboratori dove si possono sperimentare, dove si possono fare test su scenari diversi, ma non solo. Io li considero laboratori perché sono gli ambienti ideali dove se noi riuscissimo a dare via al libero pensiero, alla critica, quella vera, cioè se cultivassimo il ragionamento critico, allora da lì possono venire fuori non solo idee, ma avere proprie soluzioni. Perché possiamo leggere le nostre grandi società leggendo quello che succede, quello che viene fuori dall'interagire e dalle attività delle università. Quindi è un ruolo di ricerca, è un ruolo leader, di creatore di modelli, però prima di crearli questi modelli e presentarli come tale, bisogna sperimentarli. E le università sono il luogo ideale per fare questo. Io direi che una parola che mi sembrava detta oggi da Zygmunt Bauman, il sociologo che ha tenuto nel main speech del summit, è il rischio del cosiddetto empowering incompetence. Sostanzialmente significa dare estremo potere, estrema potenzialità alle incompetenze che si trasmettono nel tessuto della comunicazione virale, soprattutto online, e determina quella che lui anche definisce questa, diciamo, ipertrofia informativa che poi, diciamo, determina la necessità di fare una serie di selezioni che obiettivamente sono impossibili, date le milioni, miliardi di informazioni disponibili sulla rete in modo certamente democratico, ma molto spesso incosciente e incompetente. In questo senso, quindi, le università hanno un ruolo molto importante, seppure i modelli, diciamo, dei sistemi formativi sono molto diversi. In questo senso direi che anche questo è un aspetto un po' da comprendere, cioè ci sono due grandi filoni, quella della università, direi che rispetta anche il nostro schema, quella dell'università italiana, comunque mediterranea, probabilmente un po' più teorica sotto alcuni aspetti e meno pragmatica, quella invece di tipo anglosassone che, diciamo, per mia diretta esperienza è molto più, come dire, asciutta, pragmatica, consistente e sotto certi aspetti anche estremamente specializzata nelle tematiche di comunicazione.